Salve cari e benvenuti in questo nuovo episodio di FC24 Allora, il problema è ancora lo stesso Ci manca un buon attaccante Ci mancano i cazzo di terzini Abbiamo dei terzini che fanno cagare E noi giochiamo sulle fasce Per farvi capire Quindi appena ci sarà il mercato dovremmo cambiare il... Penso almeno il 50% della squadra Se non qualcosa in più Quindi ci sarà molto da fare Intanto andiamo avanti con le partite Perché comunque ne mancano parecchie Andiamo in game Ci vediamo qualcosa di interessante Guardalo! Madonna Baldur's Gate! Che merda! Russo! E tira fuori Russo! Devi aggiustare un po' sto piede Russo! Non voglio cominciare a incazzarmi subito Non voglio cominciare a incazzarmi subito Mi metto in posizione Vaffanculo Il corno Di nuovo lui Ci prova Russo! Così Russo se avesse i piedi girati per bene Avrebbe già fatto 4-5 gol Esposito Russo! Ti prego! Russo! Che cazzo! Usa la tua tecnica Quello che c'hai Porca broia C'ha il tiro forte Tira forte Solo che non becca mai la porta Una volta che la becca Il tiro è anche bello Ci sta Vai uomo E' in sua Piccialo In su! Sì vabbè vai a fare in culo però Ancora Horn Attenzione Silva Attenzione Silva 33 anni e non sentirli E ormai ce li ho pure io 33 anni E li sento tutti Lui però non li sente Eccolo Arriva anche se è già in squadra Iling Junior Perché l'abbiamo comprato Ufficialmente quindi arriva Anche se era già in squadra Un sacco di gol Però è arrivato Non me lo aspettavo però così tanto Cosa ho fatto? Ho sbagliato! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Ho sbagliato! No! Ma com'è? Io ti giuro Te lo giuro Io ero convinto che Mancasse una madonna Per il mercato Ero convinto Ebbè Ebbè Ma che bello Lo spogliatoio tutto rosa Bello è Ho visto una volta Trent'anni fa Gli Aristogatti Mi ricordo un cazzo Sindaco! No! Sindaco! Iling Meno male che abbiamo te da questa parte Sei l'unico che mi dà soddisfazione Guardalo! Era proprio per il sindaco Poi il sindaco ci ha provato Coraccio Sagione vecchia Se no l'avrei anche provato a prendere Oh cazzo Eh Delgà Questo non ho eh Riccardo No guarda che il Messi qui Io l'ho provato Non è affatto male Porco due C'è Goal in to goal Ma che è? Back to back No no Non è vero Che gli altri giocano bene Ovvero i suoi compagni E poi gli arriva la palla a lui E fa gole Ecco Questo è Sindaco! Sindaco! Madonna il sindaco! Il sindaco dice E mo la riapro io Eh sì esatto Magone Battista Il sindaco Un bel tiro Anche da 26 metri Sotto le gambe Mamma mia Che gol il sindaco Vai! No Bagon No Bagon Non te voglio più vedere Vai via Non te voglio più vedere Dai! Sì rigore! Rigore! Guarda dietro Healing che fa Bravo Bravo arbitro Hai ragione Fammi vedere In realtà l'ha preso nel mento Ma facciamo finta di niente È proprio lui Simone Pedrito Vaffanculo Valverde Eh niente Vabbè pareggio Meglio di me Meglio di aver perso Chiaro Ebbè certo Bisogna riprenderla per forza Sono tutti morti I miei giocatori Non è Messi Attenzione però Errore da parte loro Navas Recupero un pallone Il problema è che al centro Non c'è nessuno Ci prova Ed è lui Russo 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 Si mette lì E la infila di testa Il russone Il russone Ha fatto una partita Calma Non ha fatto niente Per tutta la partita Ha detto Mi tengo Mi tengo E si è tenuto È alto un metro E un cazzo E ha fatto gol di testa Bravo russone Bravo cazzo Boom Il russone Eccolo qua Nuovo Innesto Come terzino Visto che ci siamo messi Parecchio Parecchio male Speriamo Che riesca a dare una mossa Alla squadra A far bene Con la nostra squadra Voi magari Non ci state facendo caso Ma io sto parlando Perché non mi ricordo Come si chiama Quindi abbiamo comprato lui Ok E' lui Kerkez Kerkez Eccolo qui Miki Tadze Nuovo Innesco In attacco Questo qui è uno che Stupra le bambine No nezzo In game In game In game Si scherza Attenzione Attenzione Alfonso Villalba Porca gioia Ma va all'espagnolo Te lo do subito Ma levati dal Ma subito Subito Fuori dalle palle Il bello è che noi Lo stiamo dando Alla nostra squadra Concorrente Stiamo dando Il portiere Scarso nostro A una squadra Concorrente Ovvero le spagnole Che la stiamo affrontando Adesso E dobbiamo vincere Mkhitaryan Vedi 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 che Mkhitaryan Già Vabbè Lui Comunque Mkhitaryan E una Quella l'ho fatta Ed è proprio lui Mkhitaryan Vabbè lui Mikatsuki Milatsuki Yes Così si fa Ancora Healing Che è rimasto in attacco Attenzio Ruba il pallone Bellissima 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 Che cazzo ha parato C'hai la mamma Veramente Mkhitaryan Sta colpendo di testa 390 volte Ma come fa Come ha fatto Come ha fatto Era bellissimo No dai Non ci credo No vabbè dai Dai È una presa Veramente È una presa Per il culo In sua Che presa Per il culo Questo però È chiaramente Fatta per farti Perdere la partita Qui Te l'hanno fatta Perdere apposta Eccolo qui Benvenuto Bellingham Jobe Bellingham Che è il fratello Però è sempre Un Bellingham Abbiamo un Bellingham In squadra A domani Che è il fratello